Il commissario tecnico della Nazionale Antonio Conte ha fatto visita questo pomeriggio alla squadra Rosanero al Tenente Onorato, una chiacchierata di 25 minuti con il tecnico Iachini, naturalmente poi anche l'incontro con alcuni calciatori Rosanero. Il commissario tecnico Conte era accompagnato dal team manager della Nazionale Azzurra Gabriele Oriali, ha naturalmente anche assistito ad una parte dell'allenamento Rosanero, ecco le sue parole in esclusiva palermocalcio.it Sicuramente sta facendo un ottimo campionato, non avevo dubbi in quanto Beppe Iachini rappresenta sicuramente una certezza, una sicurezza come guida. Ne conosco diversi di ragazzi che giocano nel Palermo perché l'ho avuto in precedenza nelle squadre in cui è nato, quindi sta facendo molto bene e ci auguriamo che possano continuare. Lei ha potuto assaggiare il colore del pubblico palermitano nell'ultima sfida, giocata contro l'Azerbaijan. L'operazione simpatia dell'Italia di Conte procede nel migliore dei modi, l'abbiamo visto a Palermo. Assolutamente, ma ci tengo ancora a ringraziare, l'ho già fatto in precedenza perché contro l'Azerbaijan abbiamo fatto un carico di entusiasmo che solo piazze come Palermo possono riuscire a dare. Adesso cerchiamo di continuare a lavorare anche noi come nazionale, anche se la prossima partita sarà a marzo, cerchiamo un po' di monitorare il campionato. Nell'Italia di Conte che sta andando come un rullo compressore, c'è spazio per qualcuno dei Rosa Nero, magari Di Bala? Diciamo che stiamo osservando, stiamo monitorando un po' tutti. Di Bala è un calciatore che potrebbe diventare italiano, ma aspetta lui, così come anche Vasquez stesso. Sono scelte personali che è giusto che le faccia il calciatore. Se dovesse poi pensare di diventare italiano noi saremmo ben contenti e felici. Lei nell'ultima intervista dopo la partita con la nazionale ha detto che è davvero importante per lei poter avere a disposizione i giocatori in degli stagio. Una visita come questa può essere propedeutica anche a cercare di sensibilizzare le società in questo senso? Io ho parlato che in questo momento un po' particolare del calcio italiano ci bisogna di grandissima collaborazione da parte di tutti. Poi un giorno in più, un giorno in meno penso che non pregiudichi né da parte mia né da parte degli allenatori il nostro rapporto che deve essere di stima e di fiducia reciproca. Il fatto stesso, ripeto, di andare nei club per cercare di parlare con gli allenatori in strano di rapporto c'è proprio voglia di collaborare perché è un momento, ripeto, particolare in cui dobbiamo veramente essere tutti uniti e cercare di aiutarci nel rispetto dei ruoli, questo è fuori dubbio.